Qual è stata la chiave della partita? Dal mio punto di vista, al primo quarto abbiamo sbagliato completamente quello che volevamo fare e questo è figlio chiaramente di un'assenza di attenzione. Dopodiché giocare contro una squadra che aveva in ritmo tutti coinvolti nel gioco diventava più difficile e noi abbiamo avuto una reazione insufficiente e scarica. Per cui credo che a livello di energia si possa assolutamente riassumere quella che è la nostra carenza di oggi. Nota positiva, rientro di Carla, l'abbiamo finalmente rivisto in palestra e in campo anche con qualche minuto. Come prosegue il suo rientro in squadra? Noi sappiamo che ci vuole pazienza, questa domenica ho deciso di buttarli e dargli minuti perché penso che oltre alla pazienza ha bisogno anche di campo per tornare il giocatore che ci può dare una mano. Non è certo in lui che cerchiamo delle responsabilità, lui questa domenica doveva provare a vedere il ritmo partita, doveva provare a capire se tutto andava bene. Spero che per lui sia stato un buon test, chiaramente la cornice di squadra non lo ha assolutamente aiutato. Grazie a tutti.